Buonasera telespettatrice, buonasera telespettatori di Rossini TV. Siamo qui anche questo venerdì sera per l'attesissimo appuntamento con l'intervista dei Senza Giacca. In conduzione Antonio, alla sua sinistra Paolo, ma soprattutto grandissimo ospite questa sera Simone Pavan. Ciao a tutti, buonasera. Simone Pavan è l'allenatore della Vispesaro. Noi abbiamo più volte incrociato Simone Pavan fuori dagli spogliatoi, gli abbiamo fatto delle interviste, però diciamo che per un certo verso ancora avevamo rimandato questo momento in attesa del momento giusto. Questo momento giusto ci è nato dopo che il 6 di gennaio, Simone, noi ti abbiamo incrociato al Palapizza per una bellissima manifestazione della Befana Biancorossa, dove abbiamo intervistato tutti meno che te. Perché abbiamo intervistato l'allenatore di qua, il giocatore di là, il giocatore della dritta al 6. A te per un motivo o per l'altro in panchina non ti abbiamo intervistato. Ma tu alla fine di quella manifestazione ci sei venuto a salutare, personalmente, e questa cosa ci ha proprio detto no basta, dobbiamo insistere, perché non è facile, perché tu hai tanti impegni, perché comunque dobbiamo ringraziare la società Vispesaro, nella persona del direttore generale Vlado Borrozan che ha accettato subito la nostra proposta di averti qui Deborah Papisca, la De Trampa, che ci ha aiutato, e non è facile, però stasera finalmente sei con noi. Sì, sì, e molto volentieri anche da voi. È stato un lungo inseguimento a Simone. Sì, è stato un inseguimento nel senso che sai, un motivo o l'altro, magari ti viene l'idea, gli rompiamo le scato. Però devo dire la verità, sono io anche un po' restio ad andare davanti le telecamere, sì, non mi piace molto. Vabbè, noi tenteremo adesso di metterti il più possibile a tuo agio, partiamo con questa bella immagine che ti ritrae nella tua vestia di allenatore della Vispesaro e siamo reduci da 1-0 a 0 con Ravenna. Io direi di partire da qui. È stata una partita che io ho visto, era in tribuna nel Prato, una partita double face, primo tempo bianco-rosso, secondo tempo direi Ravennate, però 1-0 a 0 giusto. No, non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché le occasioni più limpide e clamorose le abbiamo avute a noi e si meritava sicuramente di passare in vantaggio. Sì, poi un pochino meglio loro sicuramente secondo tempo, ma non sono mai stati così pericolosi. Ti faccio vedere questa immagine però Simone e ti dico perché, quindi secondo me è 1-0 a 0 giusto. Perché secondo me se ci fosse stato il VAR andava a finire in maniera diversa. Cosa dici tu? Sulla palla del calcio d'angolo, sì sulla palla del mani, lì abbiamo un doppio dubbio. Perché chi dice che la palla era fuori e chi dice che c'era fuori gioco? Perché il guardaline non ha alzato la bandierina. Sì, poi noi dal prato ci siamo messi le mani nei capelli, abbiamo detto è andata e poi abbiamo notato come anche i giocatori della Vista abbiano battuto la punizione in un nanosecondo, come per dire allontaniamo la palla subito da qui, non diamo modo di pensare perché secondo... No, no, però mi ricordo che l'ha... Ho stato molto attento in colazione. Sei stato attento? Sì, il guardaline è alzato subito, poi se ha sbagliato o non sbagliato, se poi non so. Ok, giustamente tu sei l'allenatore della Vista. La prendiamo per buona. La prendiamo per buona, accettatela. La prendiamo per buona che va bene così. Anche perché il primo tempo in effetti è stato un bel primo tempo, peccato per quel palo, era un gol da fare, però è andata così. Sì, è andata così. Ci dispiace molto perché i primi 35 minuti sono stati importanti, li abbiamo schiacciati. Loro praticamente Pugione ha toccato il palo un paio di volte, mi sembra. Meritavamo sicuramente il vantaggio, però poi dopo non siamo stati più capaci di tenere quel ritmo. Alla fine ci sta. E comunque abbiamo tenuto la Venna sotto, che è molto importante. Ci si è avvicinato il Gubbio, mi pare che abbia vinto il recupero, quindi si è un po' avvicinato. Però ancora la classifica della Vista è una classifica come doveva essere in linea con le attese. Certo, ma anche quando avevamo sei punti di distacco dalla posizione play-out, io ho sempre detto ci sarà da lottare fino alla fine. Ne sono convinto e sarà sicuramente così. È così, ma a noi piace parlare di Simone Pavan al di fuori dell'aspetto vispesalo, perché Simone Pavan è un personaggio importante nel calcio italiano. Tu hai fatto quasi 200 partite. Non esagerare, non esagerare. Beh, io dico che una... Una buona carriera, ma... Beh, è un difensore, no? Difensore centrale che fa 200 partite in Serie A. Gioca in tre o quattro squadre, che non è che hai giocato... Cioè, ti sei proprio reinventato nell'Atalanta da giovanissimo, poi nel Venezia dove hai avuto questa... Il tuo periodo forse migliore, più lungo, è molto... Tu sei veneto, poi legato a Venezia, bellissimo, ma hai giocato nel Modena, hai giocato nella Sampdoria. Io dico che chi gioca 200 partite in Serie A, perdonaci, ma mi sento di dire che... Parlo che è stato bello, è stata una bella carriera assolutamente. Parlo più di qualità tecniche, io ero uno che menava, qualità tecniche normalissime, ero uno che non mollava mai, che soprattutto i primi anni quando si marcava anche a uomo, lì era il mio pane, perché botte a non finire. Visto il miracolo l'Atalanta, sei arrivato troppo presto all'Atalanta. Eh sì, ma anche ai tempi, io ho avuto la fortuna di fare tutto il settore giovanile dell'Atalanta, so come lavorano. Quindi non sei sorpreso di quello che sta... di questa lunga semina a cosa ha portato. Per chi l'ha vissuta è la normalità, è la normalità, sì. Qui scorrono le immagini della festa di Venezia, che questa è stata eccezionale. Tu hai vissuto quegli anni nel campo, no? Che era proprio, mi pare, ci si doveva andare in caporetto, no? Mi vengono i brividi, sì, queste immagini non le vedevo da un po'. Sì, questa è stata la... Siamo portata la squadra in Serie A, abbiamo portato la squadra in Serie A dopo tantissimi anni, la Zironelli. Bello, bello, bellissimo. Voi non lo vedete perché stanno scurrendo le immagini, ma Simone è emozionato. Sì, no, veramente, perché non le vedo da tanto tempo, è bellissimo. A noi ci piaceva tirartele fuori e poi ci piaceva anche fare vedere questa foto straordinaria di Simone Pavan con Roberto Baggio, quindi permettimi, penso di poter dire che sei un personaggio importante del calcio, perché non è che capita... Lui è un personaggio importante. A chi capita di fare una foto insieme a Roberto Baggio, tu sei capitano di una squadra di Serie A che sapevo giocare contro il Brescia, quindi Roberto Baggio è un personaggio straordinario. Sì, sì, è sempre stato uno dei miei idoli, anche se non è un difensore, oltre alle doti tecniche, però come uomo, come giocatore, eccezionale. Scusami, crescendo come difensore, qual era il tuo giocatore di riferimento, magari mentre facevi le giovanili? Ma oddio, io sinceramente vedevo come degli extraterrestri i giocatori della prima squadra. Non avevo degli idoli particolari, sì. Io vedevo i vari progna, c'erano i tempi, c'era Pasciulli, c'era Valentini, c'erano giocatori che magari non sono altisonanti come nome, ma... Sai che non mi ricordo? Io in effetti non me li ricordo. Minaudo. Minaudo sì, Minaudo sì, Minaudo sì, Minaudo sì, Minaudo sì, i primi tre confesso che non me li ricordo. Sì, sono proprio storici, ma uomini incredibili che quando magari avevi la possibilità di andare da loro a fare una partita e lei ti trattavano veramente bene di più, uomini veri, veramente ho imparato tanto da loro. E questo personaggio che è stato tuo compagno di squadra, Alvaro Recoma? Sì, Alvaro, beh ricordo, lo sono andato a trovare anche quest'estate perché è venuto a Jesolo con la compagnia di Vieri. Noi sei andato tu in Uruguay. No, no, direi lì, è venuto lui e sono andato a trovarlo, ci siamo rincontrati, è stato bello ricordare quel periodo perché lui arrivava dall'Inter, era appena arrivato in Italia, dopo sei mesi è venuto da noi e noi eravamo in una situazione un po' critica, però il gruppo era eccezionale, eravamo ultimi forse o penultimi, un gruppo stupendo il nostro, non l'abbiamo mai mollato, poi è arrivato Alvaro e... Certo, genio che ha... Lui è Pippo Maniero davanti e noi dietro a correre, è stata la soluzione tattica da gennaio fino alla fine... Che valse la salvezza, che valse, siamo arrivati decimi, me lo ricordo molto io. Era in Venezia di Zamparini, giusto? Sì, Zamparini, io ho fatto otto anni a Venezia e c'è sempre stato Zamparini, sì. Sei stato anche in Serie B, quindi hai fatto tutta l'epopea di quelle... Sì, invece con Zamparini quanti allenatori avrei visto saltare? Eh, tantissimi, sì, tantissimi, veramente 4-5 in una stagione addirittura. Però io penso che stai tranquillo, non dovrebbe venire a Pesaro, quindi... Lo spero, per non essere contenti della dirigenza nostra, del Presidente nostro. Allora, tu sai che martedì comincia il Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo è una manifestazione italiana importantissima, esordirà al Festival di Sanremo Piero Pelù, che troviamo estremamente somigliante a Simone Pavanti. Soprattutto in quella foto lì che sembrava veramente... Allora, immagini, e quindi, insomma, questo parallelismo fra... Quindi tu ti farai per Piero Pelù, immaginiamo, martedino, quindi... Questa sì è particolare. Questa è davvero, devo dire la verità qua. Ci assomiglio a... Condizione di Regina di Cuori, cantata da Simone Pavanti. No, qui tu vestivi la maglia del Livorno, perché sei stato anche lì. Lui è toscano, sai, è di Firenze, ma non è quindi magari... Però esordirà. Ma noi volevamo parlare del Festival di Sanremo anche per un altro motivo. Tu sai che ci sono state un po' di polemiche in questi giorni legate alla partecipazione di alcune donne al Festival di Sanremo. Sulla ragazza di Valentino Rossi, mi sembra. La ragazza di Valentino Rossi, ci sarà la compagna di Ronaldo. Quindi ci sono, allora... E siccome, sai, è una cosa difficile. Noi facciamo comunicazione in un certo modo, come vedi, tentiamo di essere il più possibile a una mano. Però questa maniera così massmediologica di andare a cercare sempre polemiche, di andare a cercare sempre... Tu come... Forse anche per quello che non hai piacere venire davanti... No, 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 dai, no. Però secondo me lo fanno anche apposta. È proprio una cosa, secondo me, da ignorante di materia, per amore di Dio, però proprio vanno in cerca di queste situazioni per creare la notizia, per creare un movimento di attenzione, per poi avere i giusti riscontri. I giusti riscontri. Dopo succede anche, come vediamo qui, che non si fa un minuto di silenzio per un giocatore come Pietro Anastasi, che forse tu ti ricorderai, tu sei giovane, non l'hai visto. Noi ce lo ricordiamo sul serio in campo. Oppure come queste, quando succede quello che succede domenica scorsa, e i giornali forse sbagliano un pochino a, certo, dedicare troppo spazio a certe cose, piuttosto che ad altre, perché io credo che l'addio a Kobe Bryant meritasse di più, meritasse più attenzione da un punto di vista. Sicuramente. Ecco, allora, probabilmente, è questa, anzi, cogliamo anche l'occasione, Paolo, per fare un ricordo di questo giocatore, che in Italia ha avuto un grande passato. Ma è stato un, basta aprire, i social ancora li apri e sono continuamente invasi, li vedi da ricordi di Kobe Bryant e ognuno ha il suo, ne vengono fuori continuamente. Oggi ne ho visto uno simpaticissimo di un'intervista al David Letterman Show, dove Kobe Bryant, ridendo con il conduttore, gli diceva che lui all'arbitro, siccome parlava diverse lingue, tra cui benissimo l'italiano, essendo cresciuto qui, lo mandava a quel paese, ma in paniera molto più cruda, in italiano e sorridendogli. Quindi lui non veniva mai espulso perché non capiva cosa gli dicevano. Ed è simpaticissima la scena perché gliel'ha fatta al conduttore, mandandola a quel paese, sorridendola. Era un personaggio difficilmente replicabile. Poi a me ha fatto, e tenerezza mi ha commosso il tributo che gli hanno riservato a Reggio Emilia, leggendo quel pezzettino di una frase che aveva detto lui su Reggio Emilia, è stato bello, è stato bello veramente. Sì, sì, queste sono cose. Mi ricordo che a Fano noi ti abbiamo incrociato in occasione del derby, vinto all'andata, e tu non hai perso l'occasione per dimostrare la tua sensibilità quando è stato fatto un ricordo particolare per un tifoso della visca che non c'è più. Quindi crediamo che lo... Vedi, è il motivo per cui noi tentiamo di ragionare in questo modo, di fare questo, perché crediamo in queste cose, in questa sensibilità che lo sport deve avere, può avere a tanti livelli. E da non dimenticare. E da non dimenticare. Poi hai deciso un giorno di fare all'allenatore, hai smesso di giocare, hai deciso di fare all'allenatore, ma come hai deciso di fare all'allenatore? Hai fatto un corso speciale, ti è venuto in mente qualcosa? In campo avevi questa predisposizione? Non so, negli ultimi anni, ma quando vedi e senti odore di addio al calcio, pensi al tuo futuro. La mia passione è il campo. E mi è sempre piaciuto, soprattutto negli ultimi anni, pensare a questo. E di fatti appena ho deciso di smettere, ho subito fatto i primi due corsi. A Coverciano, vero? Sì, uno l'avevo fatto addirittura a Genova, quando giocavo nella Samp, quello di terza. Con il secondo poi l'avevo fatto a Coverciano. Subito dopo ho iniziato ad allenare a Portogruaro. Ho smesso di giocare lì, gli ultimi sei mesi di carriera. E ho iniziato subito lì a allenare. Mi ha dato una squadra nel 17, che ricordo con molto, molto piacere, perché avevamo delle difficoltà incredibili. Quindi eri anche molto giovane. Sì, grazie. Ebbene, eri giovane. 36, 35, 36. Ma sai perché te lo dico? Perché noi abbiamo intervistato Daniele Galloppa qui, ci sono un mese fa. Sì, Daniele. E la cosa bella, particolare, è che lui è così giovane, e quindi ha questo feeling particolare con i giovani, perché quasi ci si riconosce, perché lui è molto giovane, quindi ha più o meno l'età che avevi tu quando hai fatto questa esperienza. Sì, ho fatto due corse, allora lì mi ha dato subito la possibilità di allenare e sono partito. Adesso noi vediamo in questo filmato, invece, un giovanissimo Allegri, che praticamente in questa intervista che ha rilasciato alla RAI, dopo non essere stato messo in campo da radice per l'ennesima partita, praticamente fa intenderlo, io da grande voglio fare l'allenatore, così almeno decido io. Ma è questo che sono anche queste motivazioni, cioè di voler proprio impostare la squadra, decidere, a far sì che un ex calciatore decida di fare l'allenatore o no? Sì, ma quando tenti di iniziare può esserci questo pensiero, però dopo quando ci sei dentro le problematiche che vivevano gli allenatori che ti hanno allenato li capisci solo in quel momento lì, perché quando inizio l'allenare è tutto bello, ho la mia squadretta, alleno, bello, vinco, perdo, pareggio, tutto va avanti benissimo, invece proprio non è così. Allora capisci quando sei dentro, ah ma l'allenatore 5 anni fa quando ha scelto di fare questa cosa te la ritrovi, allora vedi la difficoltà che aveva il mister quando mi allenava, quando io pensavo, ah il mister si è comportato così, si è comportato nei miei confronti, ma dietro c'è un lavoro tosto da fare, perché hai i 30 giocatori, hai la società, hai i tifosi, hai la stampa, c'è molte cose da gestire, allora capisci le scelte fatte dai allenatori che ti allenavano, secondo te sbagliate, invece poi ti rendi conto che era difficile scegliere in quel momento quella cosa, allora hai un'altra visione. Prima la colpa era completamente allenatore, invece non è così, io mi sono, su molte situazioni mi sono ricreduto, allora, ma lo capisci sempre dopo, quando sei sedento. E che quel pensiero di Allegri, va a facciare allenatore e così decido io, lui voleva fare come Ibialli, fare allenatore e giocatore, così effettivamente decideva di giocare, perché poi quando diventi allenatore, ha visto la bravura di Allegri, lo poteva anche fare da subito, perché ha dimostrato da subito di avere qualità importanti. Simone, in questa immagine noi vediamo uno degli uomini più ricchi della Terra, si chiama Alvaled Bil Talal, è uno sceicco dell'Arabia Saudita, che a un certo punto decide di comprare la vispesano, adesso sai che no, ci sono questioni societari, decide di comprare la vispesano e comincia a dire, Mister, Simone Pavanna, noi vogliamo... In tre anni la Champions. Ecco, in tre anni vogliamo andare in Champions. Quindi... Cominciamo a scegliere. Cominciamo a scegliere. Chi scegliamo, Meret o Dospina? Abbiamo... Meret. Abbiamo portafoglio... Meret, io vado... Portafoglio gonfio... Meret, Meret, io vado sul giovane che... Con talento. Delit o Demiral? Delit. Delit perché può stare anche da solo in difesa. Ericsson o Sensi? Io a me piace Sensi. Sicuramente vado controcorrente, però è un giocatore che a me piace molto. Che peraltro Ericsson è esordito proprio mercoledì con... Tra l'altro è quasi un nostro concittadino, perché è di Urbania, in provincia di Pesio. Sì, se non lo sapevo. E' proprio di queste parti. Ti trasferisci, allora, compriamo anche il bomber della Nazionale, ma chi fra i due? Non fatemi dici, tutti e due. Bisogna chiedere lo sforzo al presidente e portarli a casa tutti e due. Eh sì, ma dopo chi mette in campo. Ma chi mette in campo? Devo trovare una soluzione per metterli tutti e due. E fidati che ce la faccio. Ce la puoi fare. Sì, sì. Quindi è un messaggio per Mancini, che ce la deve fare a metterli in campo tutti e due. Allora, questi due invece? Anche qui devi sceglierne uno. Per me Messi. Per te Messi. Sì, so che c'è una questione qua tra loro due, però io adoro Messi. Adoro i Messi. Quindi, Paolo, cosa ne dici delle scelte di Simone? Beh, sono tutte assolutamente condivisibili. Qualità infinita. Però poi alla fine lo sceicco dice beh, però questo Pavan affianchiamo gli anche un tutor. Sarri o Conte? No, ce ne abbiamo tanti. Partiamo da Allegri. Allegri c'è poco da dire. Ha dimostrato di essere... Poi la cosa su cui mi piaciuta sempre è che gli rompevano le scatole per il bel gioco, eccetera, eccetera. Ma lui ha vinto. Ha vinto. Appunto, lo so, la Coppa Campione non è arrivata, eccetera, eccetera. Però ha vinto. E alla fine conta quello. Sarri? Eh, Sarri... Sarri è uno che insegna calcio. Che ha una mentalità precisa. E da lui si può veramente imparare. Conte? Eh, Conte... Fame, determinazione, ma non solo. Perché ho la fortuna di conoscere delle persone che sono del suo staff sia un martello, ma anche ne sanno di calcio. Alla fine di questa caralata dovrai fare un nome. Sì. Simone Inzaghi? Ma sono contentissimo per Simone. Ci ho anche giocato insieme. Perché mi piace quando un allenatore giovane ottiene questi risultati. Allora sono veramente contento per lui. e gli auguro veramente di più ancora di quello che sta ottenendo. Carlo Ancelotti. Sei da milanista. Non posso che non ti fare... Debole. Sì, sì. Carlo Ancelotti è... È bello, bello per tutto quello che... che ha portato al Milan. E se ti arriva a Murigno? Eh, ci devo litigare. È un testone come me. È un testone, però vabbè. Si sta parlando di fenomeni. Di fenomeno veramente. Forse... Forse quello... Quello secondo me, naturalmente. Secondo me è quello più... Più bravo di tutti. Eh, per Guardiola. Sì, sì, sì. Poi abbiamo uno che di finale è abbastanza esperto. Eh, di finale sì, è vinte. Non ne sbaglia una. Ha fatto il secondo lì. Poi è partito lui da solo e ha dimostrato di essere un grande allenatore perché bisogna vincere. Ancora deve perdere una finale tra... Sì, sì. Tra Champions, la Coppa di Spagna, tutte quelle che ha da giocare. Le vinte tutte. L'ultimo. Eh. Jürgen Klopp. Non le avete tirati fuori proprio... veramente... fantastici. Devo solo imparare da loro, veramente. Però loro... E non... Dico la verità, vedo molte partite. Vedo molte partite delle sue squadre e me ne sono viste veramente tante. Allora, facendo... Soprattutto il Borussia. Quindi come tuo secondo tra tutti quelli che abbiamo visto, quale prendi? Dai, andiamo sul sentimento e mi porto Carlo Ancelotti. Dai, perché tanto non posso scegliere... Sono tutti dei fenomeni e Carlo Ancelotti, dai. Di queste foto io ho notato una cosa. Rivediamo l'ultima di Jürgen Klopp. È l'unica in cui l'allenatore insieme alla squadra non sono riuscito a trovare una foto di Jürgen Klopp da solo con la Coppa. Mentre invece tutti gli altri l'ho trovata, di Jürgen Klopp no. Sempre con la squadra. Può essere indicativo anche questo? Sì, assolutamente. Lui riesce a creare un rapporto con la squadra. Poi deve essere supportato dai risultati, eh. Certo. Perché poi nelle difficoltà si crea sempre qualche crepa con qualcuno e lì deve essere bravo a gestire. Paolo, questo è un argomento che volevi approfondire te. Sì, una curiosità che mi porto dietro da tempo che poi la stessa domanda la rifaremo quando avremo non so, Giancarlo Sacco qui o chi per lui. Nel calcio spesso i grandi allenatori e gli allenatori sono ex calciatori. Nel basket invece è molto più democratica la cosa, diciamo, nel senso che molti grandi allenatori sono dei non giocatori, Messina, Scariolo, guarda, gli ultimi tre passati a Pesaro, Boriccioli, Sacco, Perego. Hai una spiegazione per questa cosa? Perché sono due sport comunque complicati. Sì, molto, molto. È difficile dare una risposta a questa osservazione. L'unica cosa che si può evidenziare è la qualità umana che hanno questi allenatori. Perché di esperienza di gioco ne hanno poca, no? Non essendo stati giocatori, grandi giocatori. Devono avere delle qualità nascoste sotto che ti permettono di ottenere i risultati che hanno ottenuto. Un allenatore che è già stato calciatore ha di base vivi lo spogliatoio, sai certi comportamenti, li hai già vissute in campo uguale, allora puoi avere dei riferimenti importanti. Un allenatore così che che si approcciano senza avere un'esperienza di campo e di spogliatoio di quello sport lì è difficile. Difatti, secondo me, sono ancora più fenomeni quelli che ottengono risultati non avendo l'esperienza. L'esperienza di campo. Simone, ci avviamo in conclusione, siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata, torniamo sulla vis, perché comunque sia ci piaceva approfondire anche qualcosa sulla vispesa, questa è la classifica attuale della vis, come dicevamo c'è il gubbio che ha recuperato qualche punto. Allora, lo conosci il trittico dell'annunciazione? Sì, ma non sono un esperto. Ecco, allora considera che questo quadro è un quadro che ha l'ouvre, io sono andato, ho fatto sulla classica ricerca su Google, trittico e terribile. E mi è uscita la recensione di questo quadro fatto da una critica d'arte che si chiama Raffaella Terribile. Ovviamente mi riferisco alle prossime tre partite della vis. quindi questo trittico peraltro con tutte venete quindi tre squadre che tu è difficile. Difficile, trittico difficile ma siamo qui. Siamo qua assolutamente con difficoltà perché ultimamente ho degli un pochino un po' troppi infortuni che mi che mi legano un po' per quanto riguarda le scelte però come ho detto altre volte non sono uno che si piange addosso non sono uno che trova alibi andiamo a fruttarle a testa alta non vi dico come come dico i ragazzi perché non è giusto dirlo davanti alle telecamere però siamo pronti con la determinazione e la fame di tentare di andare a prendere punti da qualsiasi parte c'è chi dice sappiamo che saranno difficili che hanno qualità superiore le nostre ma ma noi dobbiamo battagliare basta non ci sono altre soluzioni non ci anche nelle difficoltà anche se ho pochi cambi poche soluzioni non mi interessa non mi interessa i ragazzi che ho sono tutti che pedalano e basta e noi dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo concentrati lì fine chi ci trova andavanti e dobbiamo tentare di buttarlo giù a volte ce la facciamo a volte non ce la facciamo però l'importante è non perdere mai l'equilibrio non è che si perde anche l'andata abbiamo perso delle partite ma abbiamo sempre siamo sempre rimasti sopra la zona priori dobbiamo fare in modo che succede anche adesso basta c'è chi dice che potrebbe essere un po' distratto il Padova dal fatto i 110 anni di festa io ci credo poco perché è una società importante professionistica no ma poi quando conta il campo non si badano più come col Vicenza sono primi in classifica verranno qua assolutamente quando c'è campo è campo allora due giocatori della Vis sulla quale ci piaceva spendere due parole sai Paoli che è un nostro punterraneo capitano storico della Vis è stato anche nostro ospite è anche lui un leader in campo sì sì Lollo è quello che allenamento partite fuori dal campo è sempre proprio un uomo è sempre è sempre sul pezzo sì Lollo ci puoi sempre contare e poi il nuovo portierone Pugioni ex Serie A anche lui tante partite nella massima serie è già in campo si vede proprio trasmette il suo carisma certo certo che sì Chris ci ha dato una grossa mano e ci ha dato grossa grossa esperienza da la sicurezza che hai detto te prima è una figura importante e torniamo in conclusione proprio a come abbiamo iniziato questa puntata alla giornata del 6 di febbraio perché ti posso garantire che Pugioni era imbestialito di aver preso 7 gol da l'Ital Service non gli andava giù ha detto insomma proprio ce l'ha detto quindi vabbè chiaramente scherziamo ma fino a un certo punto perché comunque insomma i 7 gol non gli sono piaciuti perché l'agonismo è agonismo alla fine gioco è gioco però poi uno che è abituato ad essere agonista in qualche modo ti posso fare un'osservazione dimmi quando abbiamo perso vabbè abbiamo giocato i ragazzi di calcio a 5 si vede quando una squadra vuole vincere nel senso non che noi volevamo perdere quella cosa di beneficenza è stato bellissimo ci siamo divertiti e non va neanche considerato con le cose lì però io tento di osservare tutto imparare da tutti vedevo nelle facce dei ragazzi che loro se ci potevano far gol ce ne facevano anche 20 e quello che mi piace non è che sono andato di loro i miei ragazzi perché siamo rimasti in un contesto di relax assolutamente però mi è piaciuta questa cosa qua allora imparo anche da queste cose loro non interessava niente anche se loro mi sembrava allenamento però loro ci hanno dato e loro mi è piaciuto questo è un periodo nel quale non incontrare l'Atalanta secondo questo ragionamento vedo che le squadre che ci le incrociano occorrono dei seri rischi simone concludiamo con questa immagine tua giovane perché hai fatto sicuramente anche il modello oppure assolutamente assolutamente no 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 più che pelu qui sembra Gianluca Grignani no mi ricordo ho ricordo di questa foto perché ero l'Atalanta e sono sempre bei ricordi sì sì mi ricordo sì che ero proprio questo mi sembra ero proprio il centro sportivo di Zingonia sì bei ricordi Paolo a te la conclusione come sempre salutiamo il nostro pubblico siamo in chiusura di puntata ma siamo felici di aver coronato con successo l'inseguimento a Mister Pavan e a questo punto ci auguriamo che altrettanto tu e la BIS correniate con successo l'inseguimento alle zone nobili della classifica sì è logico che è il nostro obiettivo passando da questo trittico sì io ribadisco che ci saranno momenti difficili e dobbiamo essere tutti tutti uniti e concentrati parlo di noi naturalmente squadra società eccetera eccetera ma il nostro pubblico la nostra tifoseria la nostra stampa un corpo unico voi dovete essere tutti uniti perché sarà difficile sarà dura perché un campionato vedete che dietro non mollano mai ci sono partite importanti girone tosto però dobbiamo lottare tutti insieme questo è il mio desiderio è il mio desiderio fino a qua ce l'abbiamo fatta abbastanza secondo me si può fare ancora naturalmente in primis in campo si può fare sempre cosa in più però più uniti siamo più siamo coesi e sarà più facile lottare contro le altre squadre e raggiungere i risultati grazie a Simone Pavani grazie a voi salutiamo tutti quanti non dimentichiamoci mai i like sulla pagina di Rossini TV dei Senza Giacca ci vediamo venerdì prossimo un applauso speciale al mister della vispe grazie grazie a voi buona serata grazie 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 per la visione!